inaugurata la panchina rossa a castellamonte si ringrazio le donne della valle sacra per avercela donata per averla donata la città e soprattutto per il pensiero che hanno verso un argomento che è assolutamente importante ed è assolutamente attuale anzi è sempre più attuale e questo ovviamente non fa ben sperare però insomma ci auguriamo che anche questi tipi di sensibilizzazione vadano nella direzione di cercare di far calare quello che è una piaga ormai della società moderna. Un modo per tenere altra attenzione? Sì assolutamente sì e per questo rinnovo anche il ringraziamento dal punto di vista proprio culturale della dell'azione che loro fanno loro sono in tutto il territorio stanno stanno donando panchine o sedi e quindi insomma il lavoro che fanno è un lavoro grosso anche dal punto di vista proprio non solo morale ma anche culturale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.